105 Traffic, sponsored by... Restare bloccati nel traffico o uno spreco di carburante? Con Waze aprivi il percorso migliore, eviti il traffico e consumi di meno. Scopri di più su esso.com 105 Traffic Questa la situazione su strade e autostrade in campagna lungo la tangenziale di Napoli coda da Capodichino a Corso Malta per traffico intenso verso Pozzuoli. Bacchino a Corso Malta per traffico intenso verso Pozzuoli e cuore in furia sulla sette danza una sacco d'arena per traffico intenso verso Pozzuoli